il mazzo della settimana eccoci qua con il nuovo appuntamento dedicato al mazzo della settimana di yugio che mazzo guardiamo oggi che mazzo andiamo a scoprire oggi oggi quale deck ci propone i boss bene 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 allora nei commenti della scorsa settimana un utente non mi ricordo chi comunque ha lanciato boss numero numero faccio un bel numero eccoci qua volevo fare un po di numeri e allora preso quest'idea ho contattato i miei fedelissimi ho chiesto al signor cameraman e al signor eric anzi al signor cameraman trova una lista che rappresentiamo il signor cameraman ha fatto una ricerca ha trovato una lista si insieme al signor eric l'hanno miscelata l'hanno mixata ed eccoci qua a presentare il nostro deck invoked numeron che c'è signorina signorina qualcosa c'è qualcosa che non vuole ascolta la testa tranquilla tutto bene tutto bene dunque 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 adesso ci gustiamo il nostro deck invoked numeron perché il numero perché da battaglia della leggenda armageddon battaglia della leggenda number four ci sono giusto giusto queste carte qua e quindi giustamente qualcuno di voi ha chiesto di presentare questo mazzo e allora che c'è che c'è che c'è la sigla bla 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 come cantava gg dag a gira cantava solo bla 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 e facciamo bla 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 bene 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 e allora andiamo a gustarcelo dal nostro portadeck di caiba majestic il nostro deck invoked numero on ricordo sempre per chi non l'ha visto la scorsa settimana che c'è in corso una sfida tra agoni e boss la sfida è boss riuscirà a dire tutta la lista del mazzo extra è compreso senza fare alcun errore non c'è ancora riuscito in tutti questi anni se fosse la faguli pagare la cena attenzione vediamo cosa succede e allora partiamo con deck invoked numeron main deck 1x PSI struttura pilota poi a Leicester l'invocatore 3x poi muro numeron 3x fioritura di cenere e gioiosa primavera 3x PSI struttura signore gamma in 3x poi orcu fantasma e il coniglio della neve 3 coppie passiamo alle carte magia del nostro mazzo deck invoked numeron collasso magico 3x network numeron 3x ciclone cosmico 3x richiamato dalla tomba sempre 3x richiamo numeron 2x invocazione in 2x ricordi di speranza 2x terraformare 1x rotazione del set 1x e ricastro goblin 1x a chiudere le nostre carte magia cartia trappola il 3x di impermanenza infinita e allora recuperiamo recuperiamo tutto il mazzo passiamo all'extra deck che per molti tipi temporali non abbiamo preparato ci dispiace ma c'è la lista c'è la lista che trovi anche sul nostro sito lb piccoli in punto it tra poi stampare come ho fatto io no come ha fatto per me la signorina dell'energia di instagram ecco ho detto ho fatto io l'hai fatto sì l'hai fatto tu addios e allora extra deck abbiamo il 2x di meciaba invocata poi 1x purgatrio invocato 1x PSI struttura signore 2x numero 1 cancello numero ecam 2x di numero 2 cancello numero 2 2x di e poi 2x di numero 3 cancello numero trini 1x di numero 4 cancello numero cavari nomi semplicissimi 1x numero c1 cancello del caos numero sunia poi 1x numero s0 zex utopico 1x ecco questo è il momento in cui boss perde la cena e quindi quando vede la registrazione si fiega di ridere io lo sapevo che dentro di me sto facendo tutto giusto e invece 1x salamagna al mirajai e 1x gardner al sicuro come è sicuro che boss non vince la maglia al cena di gondi a chiudere la lista del nostro mazzo deck i pochi numeron per questo appuntamento del mazzo della settimana una cosa se hai una lista anche tu mettila nei commenti qua su youtube no fai che è un po' dici sta questo slogan l'ho inventato adesso mi piace la storia della legge di instagram sconti un po' la testa però dai se hai una lista anche tu scrivila qua su youtube no dai dai ognuno se hai una lista scriva un po' la sua dai coinvolgiamoci tutti in questi mazzi stupendi perché ognuno ha la sua idea mi piace sempre quando ognuno commenta io farei così io farei cosa io farei cosa però magari è anche bello che insieme al commento uno mette la sua lista perché si io faccio così faccio cosa ok benissimo ma qual è la tua idea di per questo mazzo o avresti fatto anche tu come numeron l'invocate o avresti usato l'avresti miscelato con qualcos'altro scrivilo nei commenti perché no abbiamo qualche domanda da instagram oppure sabato mattina un po' di saluti il caffè deve ancora fare effetto sono i saluti un po' di saluti a tutti salutiamo sempre a tutti voi che ci seguite Mattia Ciccio Martina io vedo questo nick Matteo Mirko ciao Mattia ciao Matteo ciao Martina ciao a tutti ciao Alessandro Daniel Summer ciao Daniel Summer già sveglio incredibile incredibile saluta mattina Daniel Summer già sveglio ragazzi dovete sapere che è una cosa un evento bene 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 e allora e tanti cuoricini grazie grazie per i cuoricini che dire che dire anche per questo deck è tutto commenta condividi iscritti al canale se ancora non sei iscritto seguici su Instagram se ancora non ci segui e ci vediamo alla prossima goodbye grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti